full viola che era non era full viola era full blu che era pred poi però l'altro minchia pandits si è messi male qua eh si è messi male obiettivo diamante 4 obiettivo farsi superare da back to lobby basta ma perché c'è la mulatta nel party ciao marika ciao seba ciao ciao vai continuo con mirasha che visto che c'è marika nel party mi sentirei un po così a usare conduit mi sentirei troppo giudicato dalla main conduit più forte d'italia o magari mi può fare un po di coaching e così metto conduit vabbè vaffanculo c'è perché non vi guardo tutto il tempo però puoi guardare due pov nico bella zi come stai tutto bene bella camaleon oddio grazie al cazzo che fa punti voglio dire vabbè non piangere se vai negativo sempre bella tutto bene sono contento che tu sia bene e tu come stai? ma io ho abbastanza bene mi sto divertendo si? si beh divertente blowdown bella leggenda io sono tornato a mainare mirash invece con la skin da cowboy perché cavalco tua mamma non so se è solo un mio problema eh nico forse si eh però io ti sento un po' lontano dal microfono può essere eh no non è che sono lontano è che ci ho piazzato davanti i peluche di nessi bello nessi eh si infatti nooo andrei com'è andata la partita? bene grosso no no aspetta ah perché ha scritto oh il pandiz l'ho beccato ieri random ecco perché mi sembrava familiare e quindi io ho chiesto com'è andata la partita è quello che dicevi tu pandiz forse è palese quello lì te l'ho certo la richiesta tranquillo Andrea ti chiami Anonymous sono dentro l'anello solo così invia Anonymous è Anonymous qui è la live perché? mi ha detto ti accettare la richiesta e non l'ho più accettata ma no perché che tossica eh no però io gioco con mainare il forte d'italio lui anche mainare un altro quindi comunque non si potrebbe vabbè ma mica cioè mica gli devi accettare la richiesta e poi sei obbligato a giocarci che vuol dire vabbè mica gli ultata cioè vabbè gliela puoi accettare per simpatia e basta anche vabbè ti sei salvato sì ma se è lui insomma magari non è lui beh a parte che non l'ho insultato ho solo detto che è stato metà partita FK e pandiz beccato quattro volte e sempre carriato può essere oh oh 82 ma io sono un attimo all'altro lato della mano ma qua nico possiamo andarci secondo te dove che sono? eh alla casa dove abbiamo pingato merda qui c'è un beccatore pesante e steso merda me lo prendi? sì e ora sono lì siamo fortunati siamo già dentro il prossimo pandiz beccato quattro volte e sempre carriato oh si fuori? tonti dentro io ti do quello leggero ti posso dare no ce l'ho ce l'ho one shot uno tantissimo one shot dove sono? qua dentro uno è fuori adesso io potrei andare su questa casa? eh esatto adesso scanno uno è fuori per ricaricare gli scudi donami la vista la giù c'è una capsula assistenza one shot un altro uno è fuori eh sì no non lo riesco a colpire è di glitch a tutto quello sopra arriva l'imbroglione è sceso one shot uno ha uno di vita Bangalore ma sono andati alla casa dietro? qua? uno sì ah ah e anche dietro da noi anche dietro da noi eh sì casa con zip è free? sì sì andiamo lì no ce l'ho andoro no 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 oh sì no ah ce l'ho andoro da qui? eh beh erano splitati tra le due case ho craccato il pat erano anche all'altra cioè alla casa qua c'era solo il pat in verità gli altri erano alla casa sinistra quella dove eravamo noi prima ma ti riesce a salvare? eh ratiz l'unico crafting che hai è epicentro eh no fefe ma è a diamante 2 pandizia ti chiede scusa per la fk potresti crafter epicentro e resta campo di rifatto sì padrone attenzione c'è un uomo e l'idea incisimo beh e qui c'entra tanta roba la rampa è già avvolta ce l'hai qua bello slide cazzo le morti non parlano eh non ha seguito la regola dei due secondi eh che cazzo e ti chiede scusa per la fk pandiz ma ho cagato in mano ora ci potresti craftare a bel vedere sarebbe a bel vedere tutto a sinistra vero? sì cioè è un balone per caso no perché boh a bel vedere fuori safe però forse ce la fai ah per tuis pandiz chi cazzo è? oddio sempre lui il nostro carro random era forte carissimo no pushava da solo anche Ronaldinho mi ho beccato prima tutti i random qui conosciamo tutti i tutti c'era anche gli utenaldo sì vabbè adesso non esageriamo posso ricordarmi tutti che cazzo dai ma cosa luti si vabbè ragione vedi che c'è gente di no ma si finchè son fuori hai respon portatile? no brutto coglione che sfiga vabbè vabbè marika ce l'avrebbe avuto marika c'è comunque potresti parlare ma vai eh ma è timida eh ma si vergogna è timida no c'è chi altro mia madre che ha passione in giro vabbè salutiamo anche lei parliamo anche con lei no lei si ma aspetta c'è domandano meme era la mamma o il papà a essere nero papà ok eh hai capito la mamma ok ma non si farà questo non ha un bene andiamo a prendere i punti sto prendendo qualche secondo che prendo anche la cassa qua hanno jumpato 52 secondi un momento sto creando qualcosa sono sotto giro eh eh sì ho finito pure lo shield fai searing rush eh ne ho zero anch'io eh da un ultimo un team comunque un team da qua e un team da verso fra me credo attuali tredicesimo ma ha six manner mi so eh eeeh skin però rave no skin l'ori ha la skin six manner del rave o no vabbè magari è meme tredicesimo fred eh lavori 0-1 non c'è eh ma no no è inutile ah ok ah easy pure il perk eh il main mirage più forte d'italia però scusa nico eh ho la skin six manner e tredicesimo fred come si chiama posso eh non lo dici ma come ah vabbè fallo ma in teoria te lo dovrebbe dire sempre quando tu uccidono loro eh boh no 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 non era così non moriamo proprio ah devi essere morto del tutto se vado a aspettare un po' un secondo mi sto curando ce l'avete le cura no per i minchi è lontanissima no io non ce l'ho cioè è molto lontana boh se va dovrebbe dropparti tutte le cure sull'oress con 75 avrebbe senso avrebbe molto senso c'ho 5 siringhe ora vabbè a parte che c'ho un crafting qua io c'ho 5 siringhe allora mi faccio restare cerco di non usar sì però aspetta non mi ricordo per ora faccio col termico in teoria se prendi danni funziona lo stesso vero fatti mollare un attimo le cure avete pure un crafting davanti per medico ah un minuto capito eh bella ce la facciamo diceva si è tuo non lo so eh ma si 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 minchia dai orco ma così tanto siamo stati fuori c'ho dai vi ho respawnato fuori safe cazzo no è sopra addio buono e vabbè non capterò e neanche io mi faccio restare dai che facciamo la top 5 eh minchia speriamo boh nico veramente le lobby con te sono veloci vabbè gg una partita non so perché hanno abbastato il tempo come scusa quando e vabbè ma prima ero in solo queue e ho fatto una partita sola che cazzo vuol dire oddio aldo al teammate che gli ho trovato il game ieri cioè prima ero in solo queue e abbiamo fatto una sola partita quindi ah boh che cazzo ne so comunque una partita che ho visto eh wow una partita in solo queue con il teammate platino cioè ci sta che fosse veloce la lobby ma cariato di che che aveva 100 danni il ballistic ed è andato a terra per due volte tra l'altro che cos'era diamante diamante 3 eh si vede infatti si è giocato molto bene molto forte guarda pallizzo sono una pianta vabbè questi sono da Skyhawk è vero c'è una pianta guarda guardami bellissimo ma le piante non fanno queste cose no dai cioè la top 5 dovrebbe essere garantita e io sono in streak da 3 con questa top 5 suona così la mia voce buono ecco per tutti mi ha da meno 50 vediamo quanto arriva vado a rubarmi qualche punto allora tu ratti minchia io ratti tu vai a rubare qualche punto sembra tipo io sto sotto la mappa e voi in due andate a fare i punti più o meno le vibes ush altri due knock tre knock minchia un botto di knock qua no uno mi è sceso qua madonna se gli sparerei sono scesi in due qua qua sono scesi qua sotto a feitare mi sto avvicinando anche se mi sa di cazzo tantissimo vabbè 90 red non l'ho craccato che cazzo facevano gli altri mi va il gioco per cazzo mia io si 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 però imbarazzante dai se posso dire 90 red non è stato craccato vuol dire che l'altro gli ha fatto meno di 30 anche il patto c'è la skin viola però il revenant no ciao peps se l'ha mai zero danni cioè l'altro gli ha fatto meno di 30 zioca rattopossi in azione 5 meno di 10 ma si e prima che morissi io quanti era ora vado a vedere in top 6 quanti eravamo a parte che anche in top 6 eravamo 15 quindi c'era un ratto solo oltre a noi top 5 12 poi un botto eh ma in sto fight qua ne hanno confermati un casino in sto fight qua ah io sono a meno 5 adesso in teoria si good credo merda perché non mi faccio cazzi miei no si dovrei essere a meno 5 e via non lo vedo e via non lo vedo minchia la cassa è andata oh my god ciao beh hola beh porco diaz visto quanti cazzo di punti c'ha il pat the fuck ciao sarubo grazie per la risab oh my god oh my god minchia perché io sono a meno 5 no meno 5 easy meno 5 e ho mantenuto la streak sono a 3 di 5 che palle però per quel fight cioè io ho visto locked in che ne ha noccato uno si è buttato a confermarlo gli sparo 91 e red non l'ho craccato cioè quello con cui fightava gli aveva fatto meno di 30 tranquillo nico e no non sto tranquillo perché ma perché che ingiustizia cioè cavolo o sei con me o sei contro di me o sei con me vale colpirlo una volta succede io speravo di beccarmelo one shot che bella questa skin grazie come vanno le ranked va bene per ora ho fatto più 0 e meno 5 no vabbè bene dai più 0 meno 5 sono in negativo di 5 e ho guadagnato 2 streak di top 5 quindi ora sono a 3 su 5 di streak direi che è buono ecco Aldo direi ah quindi hanno fatto sono campioni avendo fatto top 3 top 4 anzi va beh penso sia quei round mi raffredo ah ok avrò fatto la sua round da un mucicò oh i packet loss mi sa uno solo no ora 0 dai si è fixato subito ma stiamo andando a punch non ho visto se è scesa gente sopra però vabbè di sicuro sto avendo il fuoco sul nemico sento almeno due shot l'octane è sceso ed è uscito da di qua che palle l'octane è scappato subito avesse lootato qua cioè alla fine ha fatto bene a non farlo però che sfiga eh no io i packet loss veramente eh ecco il cazzo eeeh vai dove c'è la lista amici vai dove c'è la lista amici edo cioè fai r3 eeeh ti compare tag vabbè dalla ciambella pure che palle comunque un hit di triple take mi hanno fatto boh 90 porco dio vabbè sono due team è ovvio che si butta pure tra quanto hai la zip si si mi hai colpito ma stava già andando via ma saliamo qua scusa che ci sono anche i punti è libero si è libero però non divento blu io qui c'è un caricatore leggero esteso livello 2 può tornarmi utile capsula assistenza in arrivo bella dev capsula assistenza in arrivo ok qua la zippa all'85 oh my god ciao idan grazie per l'area sub eeeh si io vado lì sopra ho preso il perk giusto che bello è arrivato il team da qua davanti a me si l'ho visto è arrivato l'altro team speriamo quello a destra aspetta aspetta non spara nessuno se ne stic uno 50 euro a pandit due o tre simili lancio stella archi in corso granata a frammentazione prima o poi succederà nello so sono riuscito a fare finalmente le 4k su octane let's go e ora le 20 bombe qua dentro almeno due ne hai ti è arrivato anche il new castle mi sono sotto attacco mangio tutti ma da ori odia 1 ho dovuto scendere e chi è chi è questo chi è io non ho pure vita te ne è salito un altro cioè non ho pure scudo scusa boh riesci a scappare nico tu non penso scappa tu cioè non ho neanche pure scudo ma che almeno crafto solo se craftare o dai lo crafto craftalo craftalo c'è in teoria mi salvo però non ho pure scudo chi è pronto a volare su una zittà te rispono qua seba io teniamo d'occhio il nuovo teleosizione boh seba seba vai seba vedi tu stavo guardando perché cazzo non ho visto che eri sceso non pensavo che eri fossi con me ancora ma no ero one shot ho fatto un 150 blu alla ori tipo 160 hai pure scudo in più? c'ho una batteria qua che Ma questi non sono loro, vero? C'è un altro team, questo, dalla foglia. Che sfiga. Sì, direi che sì. Erano loro? No. Ah, dalla foglia, allora. Ce l'hai? Cure vita. Ho quattro siringa. Beh, vabbè, dai. Ce lo dovresti fare. C'hai anche il balloon. Vai senza? Ma no, ve lo hai punti. Eh, però minchia, solo quattro siringhe. Eh, però il problema è che se mi vedono è che non fai loro il balloon. Ah, vabbè, lo faccio ancora là. Beh, va, va, va. Lo posso andare? Ma, però, no. Eh, beh, per ora devi pensare a salvarti. Direi da punto di raccolta. Solo che la vedo veramente dura. Vabbè, dai, top 2. No, la streak. Eh, questi erano quelli di prima. La streak da tre rovinata. Che palla. Giura, Axox. Che brutto. Rodo tu di quattro. Cazzo! Quanto ti manca, scusa? 55. Beh, dai. Una partita. Beh, da D2 a D4. Tutto è iniziato per colpa tua, Panditz. Ma da D2 a D4 l'ha mai fatto qualcuno? Ribol aveva fatto, vero? Da D2 a D4. O non aveva fatto il D2. Non penso a D2, no. No, era tipo da D3 quasi D2 fino a D4. Ciao, mortal. Aia, Edo. Tornerei con i random, sincero. Ebbè, con i random più zero. Grandissima partita. Ma vabbè. Cioè, alla fine, l'unica cosa che mi dispiace era che stavo in streak da 3 di top 5 adesso, minchia. Sempre brutto doverla... per iniziare da capo. Ma parto, cosa, mortal? Gioca il... Gioca quello grosso con l'RPD. La bolla di Obono. Minchia, la bolla di The Finals che potevi sparare da dentro a fuori, ma non da fuori a dentro. Cosa più broken mai vista, tipo. Che forte. Oppure il meta che c'era all'inizio, quello grosso più due medi, che tipo si giocava che quello grosso andava a fare il cashout con i due medi che lo curavano. E tipo, boh, tre persone gli sparavano addosso in contemporanea, comunque non riuscivano a shottarlo per tempo. Oppure io e Arta facevamo... con quello grosso facevamo il doppio RPG. Perché doppio RPG shottavi chiunque, mi sa che shottavi anche quelli grossi con doppia hit di RPG e facevamo tipo 3-2-1 di RPG sulla gente. Ah, non er fatto gli RPG, nooo. Era tipo la roba più divertente. Broken, un bot. Mi ricordo avevo una clip salvata e anche avevo fatto una tripla, mi sa, di RPG. C'avevo tipo tirato hit di RPG e li avevo shottati tutti e tre. Di un team. E beh, è morto, allora. E' quella, siamo soli. Beh. Sei contento, Seba? Sì. No, meglio comprare. E lo sono abituato, per spiegare. Non serve ringraziare. Non ne ho la novità. Pensiamo a sogni, a parte il cagno, a parte il quadro con l'orendo. Ti fa magra. Ho il packet lost di nuovo. Mi sa che dopo sta partita conviene che riavvio il gioco. Dico, basta trollare, però. Eh, ho capito. Cioè, no. Riavvia. Ma non riavvio durante la partita che non mi fa rientrare. L'ho già fatto l'ultima volta e mi ha tolto i punti di nuovo. Ma a me, stira riavvia. Ma l'ho fatto l'ultima volta e me li ha tolti di nuovo, zio ca... L'ho fatto tipo due giorni fa. È un'impressione. Eh sì, è un'impressione. Poi la penalità me la becco io. Appunto, se ne trego a noi. Ma a meno magari mi raggiungi. Che cazzo. Perché devo essere l'unico storico? No, se faccio meno 200 o comunque più di te. Tanto se prendo il D4 qui, già detto. Tutto proprio Apex. Mamma mia, che falle fa. Ma se arrivi a D4 qui ti o... Cioè, tipo... Se arrivi a D4 che tipo non puoi più recuperare. Cioè, se vai a D4 sotto di 10 qui ti uguale. Non lo so, vediamo. Ma in realtà non sono neanche incazzato per il fatto che ho droppato. Però comunque, boh... Che falle. Cioè, più che altro pensa a tutto il tempo che ci metterai per riraggiungere Rencaquieri prima. Cioè... Ma poco. Con Seba ci abbiamo messo tipo due pomeriggi per prendere... Eh, vabbè. Però mi sembravano un po' diverse le nobbi. Eh, infatti, basta non trovarci il full pred. Tipo adesso con Ico sono l'obbissima. È semplice, infatti, meno 80 in due partite. Beh, tre campioni platini. Vediamo, speriamo. No, mica non... Anche se è quelle... Con gli anonimi. Fanno un po' storcere il nasino. Ma pure io, l'anonimi non li conosco. Ma fai dai, cosa vuol dire? Io lo faccio perché sono famoso, immagino. No, Miwa. Stacco e riattacco. Ciao, Miwa. Come stai? Tutto bene? Non male. Vai, vecchia volpe. Che vecchia che volpe. Che poi siamo morti dai Pred prima. Quindi... Dico, ma tipo stanotte io so che siamo trovati... Abbiamo fatto quanti? Tre, quattro game? Tutti i game? C'erano in Six Man. Ancora. Due di notte e cazzo vuoi trovare? Quanti anni ha, Miwa? 21? Non i figli di Troia che Six Man hanno. Vabbè, Miwa. Comunque è apprezzabile il fatto che tu abbia trovato qualcuno che ti vuole nonostante la tua età. Ci sta. Cioè... E chi ha? Ebbè, è fidanzata. Ma vabbè... Si può dire lo stesso anche per te. Beh, no, è il contrario. Cioè, tipo, 50 anni a momento. 58. 62 in verità. 99.06. Attenzione perché mi sa che t'ha preso per uno sugar daddy. Amma mia. Marika, perché non mi difendi? Vaffanculo, vedi? Ma poverino. No. Amico, io ti voglio bene, però sei ha ragione. E io non te ne voglio. E allora perché vuoi essere difeso da me se non mi vuoi bene? Ma non te ne voglio adesso. Cioè, te ne volevo fino a due secondi fa. Non hai capito? Ormai nella gerarchia ti ho scavalcato. Sì, ma perché Marika è un po' un'atroce. Va con Sibia. Va a momento. Eh. Mi ricorda qualcuno. Smettila. Smettila. Hai capito, Pant? Sì. Quella è Marika, mi sa. Sei quasi messa a piangere in questo momento. Sta piangiando. Non la tanto. Ma va bene. Non sto capendo a chi state dicendo queste cose. Però... Beh, non lo sai. Eh, perché non lo sai. Grazie, mi fa parlare sab. No, tu non ci sei. Eh, allaghi. Guardiamo di te nel gruppo privato. Eh, ci sta. Ci sono abituato. Già lo facevi durante le ranked del primo split. Che bugie hard. Ah, Seba. Dimmi. Come sai? Sei tutto a posto a vecchia volta, eh? Tutto bene, patatone. Questa è una torre di evacuazione. Evacua. Cosa devi eva? Lo ho detto. Top 13. Il lobby è molto veloce. Ma perché stai giocando in questo modo? Non li capisco. Ma perché... Io luto velocemente. Non ci metto due ore a lutare. Eh, sì. Ma cosa gli cazzo? Vabbè. Sì. Sì, sono io. Ronaldinho. Comunque erano random, Nico. Penso tu l'abbia dedotto. Sì, ma era anche nella partita di prima. Eh, esatto. Cioè, hai fatto comunque due più due, ci sei arrivato. Però comunque, cioè... Non lo sapevi, su. Cioè, non lo so, eh. Ma sì che lo sapevo, ma te l'ho detto. Non lo so, eh. Mi puzza un po' questa cosa, eh. Ma tu, mamma. Questa cosa qui è un po' sospetta. Ma infatti è molto veloce questo game. Dovremmo approfittarne. Cioè, Nico, come sei passato da qua? Pieno di trappole. Ma infatti ho evitato quella zona, perché era sì, era pieno di trappole di Watson. Se prendete quei punti, diventiamo viola quasi. Che non sarebbe male, con zero colpi sparati. È vero, eh. Eh, sì. Per niente male. Ora ne è sparato uno. Ma cos'è quella zitta anesotica? Un bel dittis. Audio, perché ce l'ho qua davanti e son morto. Mi butto in questa casa, perché mi pusheranno, credo. No, li ho bambusolati. Non mi pusheranno più. 67, blu ad uno. 101, blu. Ho fatto 60 blu a due persone. 60 preciso. 60 blu a due persone. Ciao, Miwa. Forza, caccafona. So. Si è buttata? E li ho sentiti anche sul mio tetto. Prodema, prodema. E infatti... Adesso, 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 adesso. Imboscata, ripeto, imboscata. C'è un'altra squadra. Per dove beccate? No. Erano anche alla casa mia, eh. Erano qui. Ho lasciato anche quello, al giallo. Che sfiga. Due wandi lì. Treta, uno, diviso. E rompi cazzo. Eh, caccafona. C'è avuto un caricatore. Ciao, mortal. Io li avevo sentiti anche alla casa mia. 10 secondi. L'anello sta praticamente bussando alla porta. Crossano lì. Ma qua ce l'avetevi svolto. Eh, beh. Pingameli? Eh, la Watson si affacciava da qua, però. Ah, ho messo per la unica. Watson, noc. Go, dove ho dato l'assessio? Eh, sono elinto anche questi. Non ne ho un po'. Mi fa il TP? Questo potenziamento mi ha reso più forte. Da prenderlo, da prenderlo, da prenderlo. Pandi, ci sei, Pandi, ci sei? Eh, non dal portato. E il team che era al ponte? Oddio, non so se ce la faccio. Eh, sì che ce la fai? No. Sì. No. Sì. No. Il team che ha la galleria non c'era. Che forte che sei, Zeke. Bravissimo. Complimenti. Guarda. Sono fiero di te. Quanti soldi hai scommesso per vincere le 400? Comunque, viva la ludopatia e le albanesi dodicenni. Eh, Nico qua davanti. Sì, lo so. Io non esisto. Non potete tipo deviare? No. Beh, io devo, io per forza ne copero che non ho cura. E' al ponte. Hai i medikit? Per sbaglio? Perché non per sbaglio? Ma sopra c'è gente? Ah, al ponte, minchia. Erano due team al ponte. Ma perché medikit pandits che con due siringa really full? Eh, non ho cura. Mi son appena fatto quattro siringa. Però ho chiesto prima, almeno. Qui c'è un ottico. Distanza ravvicinata. Mi curo, copritemi. Un team è ancora al ponte. E un team è alle casa sinistra. Io potrei andare su questa casa. Porco Dio, che paura! Vabbè. Oh, che paura! Se poi sei un po' abituato a giocare in solo. Oh, che paura! Tranquillo, guarda che sono morti. Certo. Eh, nove secondi per l'L1. Vabbè, c'è la cosa. Alla casa dell'imbush. No, delle singhe fatte. Oh no! C'è un po' qui! Top 7 che l'ubb è veloce. Ma perché ho bestemmiato? No. Sì. E Edo non ci provare mai più. Dai, insultare la ragazza albanese più bella del mondo. Qua. Adesso che dovremmo... Attenzione, è un po' qui. Andiamo già nell'anello. Da dietro, da dietro! No, no. Non mi faccia. Arrivo. Arrivo, arrivo, arrivo. No, io arrivo da te. No, non ci ha tanti dietro. Li fightano, li fightano. Che infanno. Molti grotti. Che pezzi di merda. Questa è blu, sebo. Ma ragazzi, ragazzi. Beh, stiamo dentro a casa, no? Oh, c'è l'altro team. Quello forte. Crack 1, 20 flash. Questi li pushiamo, non so. 35 all'altro. Mi sparano quelli lontanissimi dal ponte. Eh, la zona. Sì, ma sono lontanissimi quelli che cosa sparano a me. Sì, prendiamo la casa, quella tutta. Ma questi non penso arriveranno qui. Ma non tutti, vero? E' entrato? E' blu. E' blu. E' one. Ult e pushamoli, dai. Una è la porta mia. Anche l'altra è blu. Anche l'altra è blu. Andiamo, ragazzi. Eh, uno è salito sul tetto. Taccato lì. Uno. Altro team. Ragazzi, qua sotto il mio è one. La roba era one. Minca, l'avevo fatto 10.000, che palla. Devo fare il phoenix. Corri, pandit, se non hai bisogno di rutare. No, stavo lì. Quecazzo. Uh, andate sopra. Chi vuol dallo, però. Qua li vedo, sì. Qua, qua, qua. Bravo. Lo caccato. Non c'erai la ult, vero? No. Scudo nemico in frantumi. Sto ricaricando gli scudi. Non ci sono una stanza me in questo. Cortina di fumo. Dobbiamo salire qua, dobbiamo salire qua. Abbiamo team sinistra e team dastra. Rimaniamo un attimo qua, rimaniamo qua, rimaniamo qua. Ma da sinistra è beccabile quello che è l'Utile Market? Non vedo l'ora di incontrarvi nell'arena. Non vedo l'ora di incontrarvi nell'arena. Non vedo l'ora di incontrarvi nell'arena. Per favore, non piangere! Non vedo nemmeno. Sono bravo, sono bravo. Sono bravo. Cosa possono dire? Ho detto che si sape. Dovrei fare... Anche io vorrei farmi la rossa. No, non devi farti, devi aspettare che si faccia. Ma queste qua sono... Mezzo, no? Ah no. Nemico, sul mio rato! Quattro, no! Mi ha individuata! In via un esca! Un attimo, come faccio sapere che non sono io, non ci capisco più nemmeno. No, è one, uno sì. No, ribuieri non ho fatti dieci. Uso un kit fenice. Stanno sparando! Che è il superio? Sto ricaricando il discorso. Sono andati qua. Sì, sì. Si sono avvicinati tra di loro, forse. Sì, 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 hanno pushato, hanno pushato aggro. Tantissimo, tantissimo. Hanno pushato un botto aggro. Un po', un po'. Sì, forse ci sta. Hanno finito. Vabbè, potremmo aspettare. Ti push a uno, Panditz, non ho visuale su di lui. Vabbè? Eh, non ho visuale per nulla su di lui, davvero. Panditz, curati, m***a. Crackata la conduit. Eh, non lo riesco a vedere. La conduit l'ho craccata, quell'altra che ti spara. È l'ultima, è l'ultima. E l'avevo craccata pure. È l'ultima ed era crack. Easy. GG. GG. E non si quitta Apex. Beh, non ancora. Sei ancora in tempo a perderli. Beh, questa partita ha dato un bel boost, però... Sì, bella laserata al PATH, sì. Unica cosa buona della partita. Ho salvato Panditz. Ho fatto un bel 170 al PATH. Che stava là dietro la macchinina. Easy. Il re degli assist. Beh. Ho otto punti alla fine. Mirage di m***a. Ma non li ho fatti con Mirage, zio cane. Hai rotto il cazzo con sto Mirage di m***a. Se faccio... Se li faccio sparando. Non li ho fatti con le esche, sti assist. Oh, ma ti senti attaccato. Ho detto Mirage di m***a. Ma no. Ma perché pare, minchia... Ok, che Mirage ti dà gli assist free, però... In sta situazione avevo comunque 1200 danni. Non ho detto che hai preso l'assist free. Non ho detto niente. Ho detto Mirage di m***a. E allora perché Mirage di m***a? Perché Mirage di m***a? Ti senti vittima. Ti senti vittima di questa frase. Mi sa che hai qualche problema tu allora, eh. Perché io effettivamente, se ora riandiamo ad analizzare la mia frase, non ho detto niente. Ma hai detto Mirage di m***a. E cos'era? A cos'era riferito il Mirage di m***a allora? Cioè, Mirage è una m***a. Basta. Un'affermazione finita, fatta. Perché dici che fa gli assist free? Perché praticamente, Gaetano, Mirage, anche se tu non colpisci gli avversari, se gli avversari sparano a una qualsiasi tua esca, te lo conta come se tu li avessi colpiti. Quindi... Come fa Nico. In un fight con tre persone che sparano, tu tipo, butti un ultimate, bene o male, colpiscono sempre, per sbaglio, le esche. E quindi... Come fa Nico. Ti prendi praticamente gli assist su qualsiasi avversario. Cioè, giocando Mirage è quasi impossibile non prendere assist. Non lo so, questa... Non lo so, questa tua spiegazione mi puzza un pochetto di buco di culo. Eh, è così. Se posso essere onesto. Ci sta. E... Quindi sì, per prendere gli assist è tipo la leggenda migliore. Basta che colpiscano anche di striscio. Prima era Blob. Unesca e... E ti dà l'assist, mi sa, per 30 secondi. Cioè, sparano Unesca e hai 30 secondi per prenderti l'assist. È assurdo. Cioè, ti dà l'assist completamente gratis. Su persone che tu non pensavi neanche di averli visti. Eh, ovvio. Cioè, per forza. Leggenda più forte del gioco dei fight. Ti prendi gli assist gratis. È un support. Cosa vuoi di più? Fate tesoro delle lezioni che vi darò. Se sopravviverete. Guardate, sono io. Eh, esatto. È come ha detto Ribo. Se ti fai la pelata, ti cresce il pene, praticamente. È automatico. Davvero? Certo. Non funziona, ragazzi. Funziona così e ti dirò di più. Per ogni centimetro di capelli che tagli, ti cresce un centimetro di pene. Porca troia, c'è un centimetro di pene. Eh, sì. Per esperienza personale funziona, comunque. Mi puzza un po' di cazzata. Dove stai andando, bec tu l'ho dei flori? Che altro vuoi? Io vado sopra. Ma con che cattività me lo stai facendo? La cattività e la cattiveria sono due cose diverse. Sì, fapucciano un... Un hard. Un hard, vabbè. Un ok? Forse in realtà due. Dico, sono tre di te. Vado hard alla mattina, sveglio dalla sera prima. Dimmi. Non prendere il cazzo, Bandits, perché... Non scendo compromessi se sei fan di Messi. Dico... Vero Cristiano, entro con i peccati in chiesa. Ma te lo fai! Ok, dietro ci sono da me. Te l'ho chiamato prima, stavo per morire. Sono dentro da me, già. Ma ti sei salvato? Non ho armi, se vuoi. Come sapeva di me? Ok. R soca, R soca. Madonna, che schizello che... Vabbè, come tutti quelli con l'aria davanti al nord. Lo vai a restare lì dietro, dobbiamo pushar. Sì, no, a la cattiveria. La zerata, l'ipend. 11 flash. Nocato uno. Nocato due. Una che ti lascia. Treta lascia. Ok. Erano forti. Vabbè, non predattuali, però. No, no. No, non predattuali. Ma tu, Ribo, non hai più l'aria davanti al nord. Vieni, back to lobby. Back to lobby, vieni. Ce n'ho due. E, vai a fare quello, back to lobby. Mi ha preso questo caricatore blu. Ok, vado a lotare full dietro. Bello start, mi è piaciuto. Due partecipazioni. Saremo comunque. E anche io due partecipazioni. Molto buono, però, eh. C'è un godo dio. Cerco il volto. Vieni. Ah. Buon gustaio. Ma, hai il volto, Nico, ma sei un purlone. Ma lo voleva sì, beh. Sono un pazzo. Sì, godo. Ma invece ce l'ho io. Ma è legale come cosa. Beh, oddio. Sì. Buono il muro. Eh, sì. No, è che praticamente sì. C'era tua mamma. No, era il devoto. È bella questa, minchia. Quanto c'è, dieci anni. Sì. Io non esisto, eh. Sto lo usando qua dietro. Vabbè, nella mia testa è suonato meglio. Sì, mi... Ho lasciato il volto. Sì, quasi morto, eh. Ho lasciato il volto. Eh, dove c'è il drop. Ho sbagliato, sbagliato. Mica, è spaventato. Ma vi servo subito? Boh, aspetta un po', se vuoi. Eh, non sapevo fossero lì. Stingate. Ok, lì. 70 blow un altro. Sì, ultati, eh. Granata, lancio... Mi allargo. Ma sbaglio? Ho sentito un ballon dietro di uno. Crackato un altro. Sono al terzo crack. Che palle. Minchia. Ah, avessi delle porco due di neri. 70 flash. 70 flash. Non ci credo. Che bo... Andiamo via? Ah, no. Però c'è un ballon dietro. Sono alessabile. Sono alessabile. Eh, adesso vedo. Sono tre team. Go, 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 go. Minchia. Cazzo. 70 flash. Dice un solo. Metto balone e lo pushiamo. Ancora. In mezzo c'è un solo. Tira adesso balone. Ma sopra? Sì. Sì, sì. 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 È morto, era questo? Ah, no. Mi hai crashato. Mi hai crashato l'applicazione. Porco zio. È sotto, seba, è sceso. Cioè, lo sento. Ragazzi, non ci sono. Siete in due. Funziona. Abbiamo un modo in deciso. No. Do cazzo è andato? Eh, minchia. È salito lì. È bella. Eh, vabbè. Ma quando fa così riesce a rientrare? Sì, sì. Sì, sì. Abbiamo capito. Abbiamo capito. Ma riesce a rientrare? Oh, state pushando tutto. Sì, sì. Però devo riavviare l'applicazione perché mi ha dato l'errore nato. Eh, però ero in open. Quello è il problema. Ma va. Ma guarda, il ballone era qua. Ma che in open che sei sopra al... Oh, guarda dove va, guarda dove va. Eh, va qua a prendere la zipline, mi sa. Che palle ce l'ha lui, il ballone. Non ha preso la zip ancora, eh. È qua da me. La prende ora? Ma che fa? Ma infatti... È stupido. Se ha leggeri mi servono. No, no, doppia. No, massimo. Niente applausi, per favore. No, no, basta così. Oh, grazie. Siete tutti così gentili. Oh, andrei stato dietro? Oh. Mi sa che non mi fa rientrare. Audi, audi. Ah, invece di sì. Non pushate. Mi rispondono a T2. No, sono morto, non ci credo. Sto a T1, dietro. Preso. 60, blu. Andiamo, 10 secondi di ult. Che due coglioni. C'è un altro team qui. E' capato, è scampato il terzo. È scampato il terzo in solo. Sto a T2, è scampato il terzo, è scampato il terzo in solo. Visto che l'alternativa erano prenderli proprio. Avevano un po' di lutto. Beh. Io non ho leggero. Scusa, il tuo ce l'aveva, perché mi sa che questi due erano quelli responati, quindi che cazzo vuoi trovare? Guarda che ne aveva responati due. Mi sa che non avevano niente questi. Io ero leggero proprio. Ah, io ne ho poche. Ne ho 70. Eh, me ne capto. Qua è no loot. Potete aspettare un attimo a avere troppo? Ah, beh. Eh, se no non posso sparare. Eh, beh. Sto qua in safe. Vabbè, ma qua era pieno di leggere, comunque. Adesso sono passato da 70 a 240. Stab viola. Qui c'è uno stabilizzatore Kahn. Livello 3. Qui ci sono munizioni leggeri. Leggere qua, panni. Eh... Vabbè, no, 220. Non so, Agnellino. Prima quando? Quanto doscia o quante batterie avete? Uno. Uno anch'io. Uno anch'io. Ma è un botto di punti. Se moriamo adesso, siamo dei stupidi. Torna indietro. Avete scelti e neanche lo finite. C'ho quattro cello e una batteria. Era pieno dietro. C'erano... Boh, delle cello e delle casse del balloon. No, ma era pieno fuori safe. Qualcuno l'ha droppato. Guardate, replicatore in discesa. Eh, vabbè. Oh, arriverò. Mi ero pushato, raga. E' zero, Nico. Su di me, su di me. Eh, un attimo, ora te le mollo. Cioè, dobbiamo fare il fight. Toro blu. Scrat. Scrat, ma lo blu. Ma... Eh, uno si è droppato. Non è fatto nemmeno. Guardi, ti blodi. Uno di vita. Uno di vita, il blodi è sceso. Ciao, uno di vita. Bravo. Eh, revenant staccato. Dio, buono. Dai, l'ultimo è su di me che conferma. GG. Aspetta, pandis. Che rincoglionito. È flash. Dov'è? Ho il flash sopra, tempo. Restalo subito, subito, subito. Sì, ma che rincoglionito, Dio buono. Ci hanno il fight 2v2 e si mette a confermare. Che palle. Dobbiamo balunare e andare... Betti subito il balun, piazza, subito il balun. Che rincoglionito. Che poi ci ha messo dura a confermarmi, ma ha fatto l'ausiliario full. Eh, GG. Luttati al volo. E dobbiamo andare da sinistra. Oh, questi non avranno batteri, che palle. Qua, quassù, quassù. Minchia. C'è rispondito, guarda. Figata. No, Dio caro. Ci sono tre navicelle di respawn, bellissimi. Prima volta mi scelto. Vi prendi i punti. Ma questi non avevano batteri, Dio Cristo. Anche io ne ho una. Eh, pure io sto con una batteri. Neanche celle. Madonna. Celle, tieni. Non sono riuscito a lootarmi. Grazie. Qua? Non sparare, non sparare, non sparare. Magari si avvicinano. Passano da sotto, forse sbuccando lì. Sì, si fightano, un knock. Eh, a terra uno. Preso uno. Ok, è craccato l'ultimo. Vai, questi sono pieni di batteri, credo. Adesso sì che si roggio. Minchia. Adesso sì. Voglia. Che bello avere del loot, zio. Prendiamo altre case qua? Sto ricaricando gli scusi. Trappola di caos. Ora. Scusate. Che bello avere finalmente del loot. Minchia, quanti team ancora. Ma che cazzo. Sono tutti full team pure. Armature blu, quelli. Quelli davanti sopra. E abbiamo gente qua dentro pure. Qua dentro, sopra. Davanti. Entriamo, entriamo. Sì, quelli là, tutti armature blu. Qua sono viola qua dentro. Dai, invece sono blu. Io l'ho ulti pronta. Potrei salire e ultare. Andiamo a chill per la top 5, almeno. Stiamo qua. Che lì sono un bot di... C'è un problema stare qua, Bandis. Tanto loro come stare, hanno. Beh, sì, però andiamo un po' No, 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 no. Cazzo. Minchia, su questi... Questi sarebbero da prendere, devo fare te. Eh, appunto. Non puoi metterti dalla finestra e prendere dei danni. Uh, vai, 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 vai. Uno, uno, uno. Sono andato. Dove cazzo è andato il bloody? Ma stavo uscendo, ma zio, porco. Non ho capito, team. Io non ho capito niente. Quello, ho noccato un altro. Ok, finito un team. No, non ho capito due, non ho capito due, raga, non ho capito due. Ho capito un cazzo. Da me? È one. Presto. Ho capito un cazzo, io. Il bloo di da sopra stava scendendo Non ho capito che scazza ha fatto Infatti su di lui non ho preso niente Qua dentro di sicuro Andiamo da sinistra Sì sì c'è un team sopra lì dentro Quello Questo team qua sotto dovrebbe essere due Le fatti, questi che hanno pushato Bandits Sì era il team di Fuse Sì sì ne fatti due che se no hanno pushato dentro E poi l'ultimo Buah raga 8 partecipazioni Ma 11 punti Vabbè Ma io di questi Zioca Eh boh c'è quello là dentro Occhio sinistra Ok Dici Secondo me a sinistra no mi avrebbe sparato all'esca No a sinistra non c'è Ma oh l'hanno fatto Ed era la catalyst Ma li aspettiamo che tanto dovranno uscire Armatura blu craccato No smoke Ma perché? Ma hanno messo la cosa di catalyst Non c'è catalyst Pandits E' morta catalyst E' qua sotto dove è uno? Mi sfruttano? La vicenda La vicenda La vicenda Ressa Tu ha? Sì Preso uno full E' crackato anche l'ultimo Beh Minchia che game Sì ho preso un bel po' di partecipazione in tiro Però Ah no io allora meno di tutti Grazie al mirage Sì sì Tipo il team prima Quello dove ho detto che non ho colpito nessuno Eh non ho colpito nessuno Però ho preso tre assist Sì sì Che rotto Che rotto Che mirage Ah no dai Uguale a Seva Sì sì Uguale a Seva Le partecipazioni Sempre qui C'è 15 punti Boia Che forte Mirage Grazie Sgapello Comunque ho fatto Avete presente Che mancavo uno Sono a due Tagli avanti due Eh due punti Eh meglio così Eh meglio così Così abbiamo un'altra partita In lobby di tre Comunque ragazzi Avete presente Quando hanno noccato uno Del team del Sei contento Ravandis? Sì sì ma stai Avete presente Quando hanno noccato uno Del team del piloti No Sì Vabbè Non ho noccato uno Tipo sperando Un po' per sbaglio Mentre cadevo Attraverso la finestrina Cioè Ma Vale Lascia il lavoro E vieni di più in live Eh? Sì bello il tuo Noc dalla finestra Sei stato molto bravo Di Prowler Sì Beh molto bello Grazie Molto gentile Sei stato Veramente gentile Con questo tuo Con questo tuo Complimento Ma io lo sono sempre Prezzo Comunque Mirage Miglior leggenda Bangalore pura Sei contro di me O sei con me Contro di me A volte succede Però che palle Che Bangalore Non fa più danni Col fumogeno Cioè era molto divertente Ah ecco perché Non sto facendo più danni Eh sì L'hanno proprio nerfata Non hita più il fumogeno Ora si spiegano tante cose Eh beh Ecco il campione Non ero perso Ma ti sei accorto del no tag? Sì Neri Vabbè Penso sei ispirato a nerissima serpe Best rapper italiana No è neri per caso Ah ok Per me è lo stesso Pensovo per marica Non c'è Paggile Quattamente qua Ma che è stato spunto da l'ave Abbiamo un tempo Come è che dicevi Edom torna qui random No Paltis Guarda dove sono l'endato Mi voglio arrampicare Ce la posso fare? Ma perché sei tornato lì? Ma perché volevo Luttare queste due case Minchia Datemi la medaglia Del miglior arrampicatore d'Italia Grazie Nessuno ce l'avrebbe fatta Salire da quella montagna Ma io sì Eh ma perché ho visto Che le case dove volevo andare io Mi avevano preceduto C'erano due persone Quindi sono venuto a luttare qua C'è uno sopra Con la rampage C'erano Valkyrie E Octane Io sono un'area 45 Devo luttare un'altra Io ho 30 30 e 99 E e e e Mi sa che andrò lì dove è il ballone Mi sa che sì Ciao Vale Non riuscite a venire voi da me Io come faccio Troppo spizzata Ma vieni tu da noi Scusa ti vedo Cioè ce la dovresti fare Eh per te che lui ci trovo io 45 Neeeeeerissima Nooo Ma avessi un'arma Per affacciarmi sui punti Mi curo Coprite Neeeeerissima Vado a prendere La cassa Ma sì dai Cioè provo a venire dove Devo fare un mega giro Merda Eh qua sui punti Era tanta roba Ma? E io sto andando a prendere la cassa Completamente qua fuori Per far diventare blu A chi? A noi quando prenderemo Non li prendiamo? Eh no Sto campionando Ah sono qua Seba Hanno pushato tutti? Non lo so Sì due almeno E continua a ruotare Sì sì sono Nel zone Mi faccio credere di essere andato nel mp2 La stattica La stattica assurda Veramente Ma io verso chi vado? Ma li vedi i pallets? No però li segno Credo di averli sentiti Se volete venire qua Foglia no loot Ma sì andiamo Prendo solo il caricatore Vabbè poi prendo il ballone Ma qua non è lootato No No Nuovo litro c'è Sì è il prossimo Cazzo Qui c'è un caricatore energetico esteso Livello 2 Poi ci stanno tornando qua Io li tol la casa fuori Cerco lo Spitfire e volto C'era la Spitfire lì dentro mi pare O no Diamo un'occhiata laggiù Chi da me? Eh boh mi sembrava Forse no Fornimenti extra da questa parte Mi sembrava male Eh vabbè Qui c'è uno stabilizzatore canno Livello 2 Cargo boss colpito Fatta la frame 1 Mi divino a cello Che c'è un kit fenice Ho trovato un trasmettitore Di rientro portatile Cazzo c'è il dev C'era il turbo dietro C'è un volt Eh volt Esatto Sono atterrati qua più avanti Il centro è ancora uno loot Qua sono atterrati tipo Stanno andando Armoor Blu Ah non l'hai preso ancora una volta No Armaggiare No poi io almeno una Sì Dammi la cella Stronzo Ma perché? Perché mi hai fatto cadere il coso addosso Cos'è meglio Freddo E' freddo No mi serve Non mai No Grande Bravo Qui ci sono Munizioni energetiche E niente Dove ho trovare i due calci Dai Ciao Nico E' cavo lan? Sì E oggi lo sta facendo abbastanza volte Però mai nei fight Abbastanza volte E' la terza Lo sta facendo abbastanza volte Sì vabbè è la terza Però non me l'ha mai fatto durante i fight Quindi non è un problema Ma è corretta abbastanza volte A me non sembra Abbastanza volte Sì Sono abbastanza male No è corretto Sono veramente male Come vorresti esprimere quel concetto Se no Non so Solo che hanno appena responato Sì Bisogna cantare i punti Ma va Li avranno già preso Ma va Avranno aspettato di respona Ma che c'è Frega di punti Vai Qua attaccati a destra Ne hai responati due Ne hai responati due E' uguale Sotto il caustic Devo essere arrestato Nico Minchia ho smirato Perché volevo Prenderlo a tutti i costi Sparato a casa Opsa Beh il caustic Siete stati fortunati Cioè che è stato Pullato da Conduit Mentre gli sparavo Minchia il T-Skitter Quanto è forte Ehm molto Davanti a me Imbusciato Ehm t'ho visto coglione Cioè nel senso Io non ancora Ma sta ulti bruttissima Ha beccato Mh boh Comunque caustic lifeline Armatura blu No dai Eh ma ha fatto il cavo lan Dico armatura blu Pusciamo Sì sì Sono anche scappate Mi sa Andiamo un po' Andiamo un po' i nemici No l'ho lasciato uno fuori safe Eh vai a fare in culo Comunque non mi sembravano neanche troppo intelligenti eh Perché Ma l'ho chiamato prima L'ho chiamato due ore fa Ah che ne so Appunto Hanno preso il balloon Stanno scappando col balloon Tutti Dove vanno Dai Sono tutti blu Trenta blu o un altro Eh questi sono da pushare Sì minchia Sì c'era l'iflame Diobono imbusciata Le ho fatto Sessanta danni Full scappate Qua c'è un altro team Sei sicuro Nico? Ma sei sicuro Abbiamo detto sono da pushare Ma finiamo in pari no Buono Ho chiamato un troppo Dall'altro nostro Ma 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 sicuri che non sono quelli in realtà Sicuro Sicuro Team da rampart Che zona di merda Ma andiamo qua davanti allora Piuttosto Chi se ne frega Eh minchia Zona di merda C'è un team Eh fightiamo loro Eh stanno già fightando Sono loro Lai Guardami un caricatore leggero Che ptalle Il terzo chi era? Non ho idea È viola adesso La light Eh vabbè Bombe 140 al caustic No Siamo individuati Blu 140 blu No no C'è un'altra squadra qui Io ho una sola batter L'altro team è lì L'altro team è lì 190 viola alla conduit Ricarico 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 Altro team da qua Occo Seva dietro Seva dietro No Abbiamo compagnia gente Eh È finita Tutti tranne un caustic Questi devono avere Caustic è ancora blu comunque Sì lo so Che sfiga Quel 190 viola C'è 190 viola a lei 140 blu al caustic Blu anche quegli altri Sono soft set Sono tutti set Gli altri Beccate qua le casse Non c'ho volte Ma cazzo Ma curati Non ho copertura Sì ma Guarda dove cazzo Sono loro Questa copertura cos'è? Dove cazzo c'è Vado restare Dai fai di Crackato anche il revenant Uno di vita il revenant Vado restare Presa la vengalore Eh sì Vado restare Vado restare E ora vado Quasi crack due L'altro team No non lo resto Lo aspetto qua Perché se no Mi servono pure scudo Ne ho 0 0 cell e 0 batterie Che palle Ravano pure il Cure scudo in più Ne vede Sì mi posso dare Dalla cella led Eh 0 pure io Tutto non mi posso pullare Proprio Non ce l'ho la smocca Non ce l'ho la smocca Eh dimmi secondi Cinco L'altro ping smocco Sì sì L'altro ping Passo Torniamo indietro Torniamo là Che due coglioni Ciao figliolo Zeta Nico my god C'è dove cazzo Andate il reo da solo Ma non è morto Un caustic sul tazzo Madonna quanto vorrei fare Quel team e basta Dai farei quasi crack Oh trolla Mi sono bloccato No no neanche la smocca Ma che cazzo smocchi ogni volta che non hai mai smocchi Ma ho lootato Spero Non ho portato un giro Guarda Siamo morti in ogni caso Minchia quanto avrei goduto Quanto avrei goduto a fare quella troia È morta Godo Mi prendi il banner Spalli Come faccio Sede Sarebbe Sarebbe stato Epico Occhia la trappola La vedi Rompila Che palle quello zio porco Shieldami C'è un ratto qui È il rev È il rev È il rev è il blu Rass È un solo Un solo Un solo Ma mi inchiappandis Io per la top l'avrei feita Eh ma C'è avevo paura di andare da lui in full open Avevo paura che magari mi laserassero dal tetto della casa Occhè stiamo messi in un pozzo di merda Sì ce li ho Eh che non volevo far rumore Vabbè Boh Il posto di merda no Siamo stati sfigati che il team dentro la casa avesse caustic A parte che gli abbiano dato il cazzo 20 volte Sì ma poi che sfiga Cioè guarda che io al team dentro la casa Ho fatto 190 viola conduit E 150 blu al caustica Inizio fight Io invece non ho proprio sparato A momenti Sperato Sono andato tra dieci volte Ci ho fatto veramente tanto Ho lasciato dieci di vita uno Venti all'altro A inizio fight Se fossero andati a terra a inizio fight Ricordati che c'è l'hottol rass Ed è blu 45 secondi alla chiusura dell'anello E sto ancora parlando da solo Se quelli fossero andati a terra a inizio fight Zio porco Platto 1 Allora Gli altri sono di 4 Platto 1 30 secondi alla chiusura dell'anello Cioè fino adesso fu il preda Adesso sono platto Eh sono arrivato io 712 Peccato Altri 3 ratti oltre a me Eh sì domani Altri 3 ratti oltre a me Eh c'è il rev lì di 3 respawn Eh sì Chissà se l'hanno fatto A me frega un cazzo Voglio fare top 5 Sì sì è appena morto Era lui Samriel Samriel Per dove entro? Vai dall'altro rosa Piano 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 Godo Godo Buonissimo E adesso? Eh vieni mettiti dietro una chest Inizia ad andare dietro al muratto a sinistra Vai dietro sto muratto Sticca C'è il bidone blu a destra Quello Eh meglio di me Nooo Che pavolo No no erano due Ah no 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 ok non erro Vabbè minchia top 5 presa va bene Vediamo se te lo ricordi chi è stoppone 67 Mmm non me lo ricordo C'è il nome mi è familiare ma non me lo ricordo Quello lì che quando eravamo in 3v3 Ma tempo fa Eravamo in 3v3 finale Tu e Rimo mi sa siete crashati Stavo dicendo che bossavano 3v3 finale Stavamo pushando Voi due siete crashati Vabbè Ah no ok E' un altro caustico Quello alla casa Non è quello di prima Vabbè il team di prima è morto almeno Ti dico il principale Adesso sei bom Beh il diamante 2 l'ho preso E questo E questo Diamante 2 è preso Ma sono sopra di 55 Tanto di 2 c'è già comunque No dai proviamoci No dai sti cazzo Vediamo come va Tanto che sono di sopra di 105 Marchevada Marchevada tu sei ancora di 3 Marchevada ma male Marchevada ma male Anche perché Io con una partita negativa Lo perdo il di 2 Vabbè Mi basta non perderlo Come ha fatto Panditz Eh appunto Quanto sei sopra? Perché anche lui era sopra di 54 55 io Tranquillo Panditz Dai ora faccio come te Faccio da di 2 a di 4 Quasi Perché il di 4 Non l'hai mai fatto Boia ma ci pensi che tipo Fino a 3 partite fa Eri alla base di di 3 Ora sei quasi di 2 di nuovo Che storia Eh l'ha trovato velocemente 17 utenti in coda Subito partì da trovare Eh ci ha messo contro tanti platini Vuol dire Ne diamo Queste famose lobby di 2 Che a di 2 cambiano Ma voi le avete beccate tutte Difficili a di 2 O tipo qualcuna di umana A di 2 ne avete beccata Qualcuna di normale Anche di 3 No no Di 2 è mai normale Vabbè questa sarà la prima Abbiamo fatto 5 game a di 2 Ah questa sarà la prima E ora vedi Campioni Six men No Bene ragazzi Plat 1 di 3 di 3 Che palla Easy Easy Posso che vengo con il principale Vai Six men Due team Un team No no abbiamo ancora Quanti sono questi No son 3 Ok Si Io sono andato alla casa qui In mani ho uno alla ciambella Ti prego un'arma Zero armi Mi stanno sparando Apro il fuoco Ti ho buttato? Eh no Io si Oh cazzo Sono solo quindi Ti butta no Ti prescia Mi stanno sparando No Mi hanno individuata No Dentro alla cesta No Però Zio Can No Cazzo Eeeh Sto cercando di curere Non hai angolo Non hai angolo Di là Ora provo a vedere Sì Rinoccato Venga qua Fa giro Sto spazzo Ti arriva da dietro Sì Ma Da E qua la venga Sì Io voglio confermare questo E restare pandit Stai lì Stai lì Stai qui Stai qui Stai qui C'è C'era l'iflame Di là Ma È distrutta venga Allora uno di vita Stavo Altro team Altro team Non riesco ad andare Poteva restare Ma pandit Vabbè no Non è vero Vabbè sì Se non avessero avuto Block Ah ora sì E io vorrei provare A restare pandit Ora 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 Guarda che lo hai su colper Oh nello cavo uno Nello cavo uno Mi sa No Vabbè ma Tanto faccio con calma Che mi voglio curare Lo sento vicinissimo Io sono una moja Ragazzo Eh questi sono attaccati a me Sì lo so Mi hanno spinto E gli altri? Vabbè Andiamo sopra Eh provi Sto cazzo di nemesis Di buono Andiamo qua Andiamo da quella parte Eh fambalunque Dobbiamo giocare caso Questa qua proviamo Lasciato caricatore energy Non ho cura io Eh C'ho l'ultima cella Che devo fare Craccato La mia porta La mia porta Bandit Bandit Ma dal titolo No perché non c'è entrato No perché non c'è entrato C'è una utilicata Era one la Devi buttarti Dico devi buttarti Era one la E non li vedo Non li ho mai visti E dietro Attaccati Attaccati cazzo Io copro questa Eh glielo dirà Che sei davanti Attordino Ma No Cazzo pensavo Non entrassi di qua Peccato Che palle Comunque Fare il fight Nella casa Contro catalyst È bruttissimo Ma appunto Zio Forza Eh Fare il fight In casa Contro la catalyst Veramente No Aspetta Godon Non ho perso il T2 Sono a zero Fare il fight In casa Contro la catalyst Bruttissimo Eh appunto Che sfiga Sì Ha piazzato Zio Can Le due tattiche L'ultimate Sopra Ma ha lockato Le porte Che peccato Ma perché G che snappa Scusa C'era G shadow G shadow Lobby 2 su 3 Attenzione Peccato Comunque Pandits Che hai detto Che potevo finirti Il rest Il primo Che stavo facendo Insomma Quando quello All'inizio Avevi detto Beh si Potevi Beh insomma Cioè La Bangalore Ci stava sparando Ma ha fatto Tipo 90 Di scudo Cioè Saresti morto One shot Eri one shot Sì Vabbè Vabbè Ma poi Comunque L'ho fatta Quella Bangalore Quanto Poi ci ho lasciato Prima dell'ultima hit Mi sono fatto Il bluorio Non capisco Come non l'abbia killata Ci ho messo Veramente sfigato Ah l'avevo lasciato 8 di vita Prima dell'ultima hit Dio bono Tipo 7 hit di Mastiff Per ucciderne uno Zio porco E' fortuna Che avevo l'otturatore viola Se no I cazzi Basta dire Cazzate Rivo Non sta neanche online Online Che pagliaccio Ma che Rivo Che fa Abbiamo ucciso il team Che vi ha ucciso Minchia Non è neanche online GG Che pagliaccio Palle Potevamo perdere 5 punti in più Si faceva D3 Poi Eh si Mi hai rimasso dagli amici Godo finalmente A che ora stacco Boh Alle 19.30 Stacco Fatto il D1 Ma che Fatto il D1 Quindi Tra due giorni Ma il cazzo Stasera Stasera Di 1 Dai Minchia I vesti qua Erano Minchia Sogni ad occhi aperti Ma non erano forti Questi Sì Ma è casualità Di 3 Di 3 Plat 4 Casualità Siamo arrivati con Nico Solo lobby Abbastanza Infatti Veramente Porca troia Eh Partnerie Ho le lobby più facili Noi letteralmente Tutti Fred Eh Da di 3 Da di 2 Non ne parliamo Cioè Anzi X-Men Erano I game Eh ma Sono le lobby Dei partner Ehi Queste Erano gli orari Non lo so Poi riattacco Sì Ma che orario Ma che fate Ma che fate Sto di 1 Entro i 19 Ma ti svegli Marica Ma Marica Non so che ci puoi sentire Appunto Eh Mi sa che è andata A mangiare la focaccia Ma focaccia Io da destra C'è un team al centro Pirlo Oh Deviato Eh vedi Mamma Stai manco a guardare Chi va Con l'inganno Ehm Com'era God Che luce di merda O una Avoc Lo baratto Con un'arma Che mi piace R99 No Lo lascio Lo lascio Questo E ora arrivo Prendo Ciao Shinigami Che palle Vado a prendere i punti E poi la Avoc Punti e poi cazzo Che provo farà un ambush Che stanno da arrivare lì eh No pandiz Ascolta la roba Non sparare quando arriva da te Ma ne sono Dove sono lì andati questi? Altro team questo Altro team questo Abbiamo un altro team da noi Noi pandiz Noi abbiamo un altro team pandiz Non ci credo Un HP l'avrete da mai Come li ha preso Come mi ha disenti Il doppia hit Dai Che palle Vabbè Perso il D2 Ma perché cazzo Sono arrivato un team Come vanno le ranked Molto bene Cioè vabbè A parte sta partita Siamo in positivo Di tipo 450 Ma perché cazzo Sono andate su di nuovo Perché Minchia pandiz Mi hai asfaltato di danni E di due Le lobby cambiano Infatti Per fortuna Ciao sgabello Adesso siamo D3 Easy lobby facile Eh Minchia tilt 3 di 3 Vabbè dai Allora Si stacca Ha fatto il D2 No adesso Scherzo Cioè dipende Se lo facciamo in sta partita o no Vediamo Spe Rim Edo il tuo game Su FIFA Basta Prendi Il cazzo Balotelli Contro il Palermo Eeeh Oh 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 Guarda sono il matador Eeeh Oh Non ho più problemi Quando sono il matador Cosa ne penso Di headcap Bravo ragazzo Schiena da migliorare Che cazzo vuoi? Cioè non mi ha neanche minimamente descritto su feglia, perché mi dovresti pensare. Non lo sto ascoltando. Certo, team mate di merda su Apex, si è sentito... Ah, cosa ne penso di Varica? Meglio che non lo dica! Era troppo. Un appuntamento.. ...ce l'ho nel sacco ...o nel sacchetto. In ogni caso stiamo vincendo. Insieme, uccideremo i nostri nemici. Cosa ne pensi di Panditz e Ribbo che stanno assieme, coppia dell'anno? Vabbè, ma... ah vabbè, ma siamo... Sì, ma noi stai... Primo game di oggi nel CILA D3! Fred... Secondo me i partneriei hanno le lobby più facili. Su me è davvero. Beh, se è così non lo so, sinceramente. Se è così è una cosa di cui non sono a consapevolezza. Cioè, non sono a conoscenza. Ma quanto sono spittati, raga? Uno solo in mezzo, uno solo in mezzo. Panditz, prendi un'arma e pusciamolo solo in mezzo. Sono morto, ne ho crackati due, ma ne ho due a cazzotti. Vieni da me, vieni da me. Eh... Tua mamma è una puttana, vieni qua. Madonna. Ah... Eh, 112 dal mio, bianco. Anche Ravenant era distrutto, eh. Madonna, che nervi. Questi hanno da trollarci la partita. Che bot. Chi era quello? Il pazzo. Il pazzo. Manca solo il Ravenant allora. Mardà. Quattroia. Che palle. Ma è l'ultimo o è un altro team? Sì, sì, il Ravenant. Gli ho fatto 50 flash allora. Dov'è, dov'è? 50 flash qua dentro è entrato sotto, andrà dietro. Non prendo il fune. Ma che ti frega del punto, pensa a farlo. 50 flash gli avevo fatto. Vai, 48 bianco. Eh, uscirà per di qua. Sotto, sotto, andrà dietro sotto. Maestro, fai due, che fanno. Easy. No, ho preso tutti e tre punti. Eh, io due. Mi interessa, su back to lobby, sì. Bravo, se va, ha preso tutti e tre punti. Ma... Che secco di mare. Ma mi sono lendati in due a cazzotti allo start. Ma come, perché? Trolli? Ma molto antipatici. Ma molto antipatici. Molto antipatici allo start in rank da diamante lendare a cazzotti. Una mossa molto stupida, se posso dire. Cioè, boh, antipatici. Mi pare che tu sia sopravvissuto. Sì, loro invece sono in lobby con un bel meno 80. Pensa a te. Che bella giocata che hanno fatto. Cioè, non vedo il motivo della loro giocata. Cioè, era tutto lend libero da lutare. Eh, sì, ok. Manco te avessero insultato la madre, boh. Ma, ma, preferirei che mi insultassero... Cioè, preferirei quello, sinceramente. Che sì. Preferirei che mi insultassero la madre, piuttosto che mi trollino la partita su Apex. Non lo ascolti, signora. Eh. Perché sono armato a do... Signora Conte. Porco zio. Non salire, Nico. Beh, signora Conte suona bene. Ma c'è gente? Sì, 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 sì. Oh, che fare. Avete sempre gente. Io, boh, non posso mai lutare, oh. Non fai tanto a bene, sono domi. Non vengo. Mi prendo qualche secondo per il carriere. Sì, ma l'imbruglione. Cheat. Beh, cheat. Io non l'ho sparato. Io neanche. Ma stanno di voi? Sì. Hanno anche pushato. È bianco. È tanto a bianco. Qui? Vengono. Non siete esplittati, oh. Distrutto Revenant. One shot la benga. Preso Revenant. Blancata Conduit e one shot la benga. Ping, 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 subito, ping, ping. È one shotissimo, è one shotissimo, uno a uno. Preso. Venga da me. Troppo. Era una shotissima prima. No. Com'era? Se prende ziffro, fammi. 13. 36 flash. Eh, pushato. Vi prego, dai, che mi prendo l'assist. Sì, dove è andata? Ma non me lo dice, perché? Attenzione, il campione. Perché non mi dai passi? Ti è fermato. Abbiamo eliminato il campione. Eh, potrebbe essere. Nuovo livello. Io scelgo un potenziamento. Voi mettetemi in fila per gli autograffi. Uso un kick finito. Eh, no conduit. Possono craftare. Qui c'è un caricatore per gli autograffi. Ma che cazzo? Sto controllando. Boh. Continuo a non dirmi niente. Eh, sì, sarà fermata davvero? Cosa è un bug? Eh, no, non c'è, è un scannato. Ma cos'è, è un bug? Qua sotto, magari? No, no, ho scannato. Ah, io ho preso la kill ora. Non sapevo neanche dove fosse. Sei campione? Sì, sì. Pensate. Questi che ossia. Eh, perché sono stupido, Sox. Ah, non me ne ho più. Eh, non me ne ero accorto. Ho scannato per sicurezza. Oh, c'ha scop... Ah, adesso me li dai passi. L'ha andato a sinistro. Va bene, andrà a spaccatura, magari. Io lei la voglio prendere, mi hanno fatto girare il cazzo. Scanna i nemici, eh? Sì, sì, cerchiamo lei. Eh, direi lo slot, Thomas. Eh, non crafto nemmeno. Rimane il 50% Posizione nemica individuata. Controllate le... È morta? Boh. Beh, direi che è morta. Ma sì, sì, sì. Sto qua, chi? Non c'è nemmeno nessuno? Eh no, però... Oh, ha quittato. Perché a me ha dato il dissanguamento sul rev. Eh, ha quittato nel ranking, non credo proprio niente. Non so. Potrebbe essere. Ma sarebbe la kill, non ce l'ha dato. Ah no, è vero. Prendo un attimo i punti. Che divento red. Davanti a me, forse sono morto. Eh dai, no. Crackata blu? Eh, io non esisto. Sto controllando l'area. Qui, io tiro. Tutti blu. Pingate, raga, pingate. È qua, qua. Perché io li piglio da dietro. Dovrei prendere da dietro, eh? Eh... 138 blu, uno. Nonno. Strutti? Un HP1? Buon shot anche l'altro. Colpito qua con lui. Buon shotissimo questo. Eh, io sto pushando il mio. No! No! Gli ho missato 3 hit. Zio porco. Vabbè, manca solo lui. Ish! I cyber pandits. Cazzo. Avrei fatto una bellissima tripla di PK. Niente. Presi i primi due e il terzo mi è stato tre volte. Vado. C'è la... Uh, che cura. Vai. C'è, vai, droppa. Mi treta. Chissà. Che jella. Vabbè, a parte che l'assist l'ho preso uguale. Quindi prego il cazzo. No, raga, un trottino dietro! C'è Dio! Un trottino dietro noi! Eh, la vedo tosse. Ragion. Armatura viola. Ci hanno trovato un altro team, forza? No, no, sparavano le mie esc. Dobbiamo beccare di più, dobbiamo beccare di più. Sì, sì, infatti. Oh, non so, forse hanno un altro team, però. Eh, infatti, cioè, non è serio, sì. Mi salgo qua. Sì, sì, venite da lì. Oh, ma che cazzo fare a me? Cazzo, però sono di noia. Sono qua davanti. Non avvicinatevi a me. E' altrimenti pronta. Il rete sotto, il rete sotto, il rete sotto. Mi so buttati. Tutti? Sì, sì, sì. Sotto di voi? Provò a mettere il mio più. Angolo da me. One la conduit. Presa la conduit. Mi butto, mi butto, mi butto. No, di quanto, min... Vabbè. Easy, partecipazioni. Che stupidi. Correa, corre. Eh, ma minchia, si fosse girato un attimo quello, invece di andare là. Io già ce l'ho. Easy. Eh, io non la prenderò. Già nel prossimo anello, sento odore di... Eh, bel tentativo, Thomas. Dai, che sta partita si riprende il D2. Ma abbiamo anche tanti punti, facciamo una bella vittoria. Sì. Ok. Vabbè, la pena. Davanti qua. Ehm, sono da solo. Ehm, sono da solo in qua. Quello! Ricarico gli scuti! Sto controllato l'aria! Ehm, purtroppo non gli ho sparato, non so... L'armatura! A me mancano 139 per la rossa. 151. Rossi, rossi. C'è uno. Beh, ma... Magari ha preso il drop, dai. Fatto 10 a uno e 10 a un altro. Sì. È lì quello che ho. Sì, è una petale, queste. Due viola, comunque, una red. C'è, è un 10 combat, viola. Sotto l'altro. 100 red a uno. Copritemi, copritemi. E ti arriva l'imisa. No, dai, però... Sì, lo so. Ho fatto 90, un altro. Attaccati, attaccati, non ti preoccupare. Chi dici, lo finisci. No! Mi trutto il rev. Buono. Buono. Ma porco due, l'aria 45, cosa non è? Eh, GG. Io l'ho detto nel primo split. Bravissimo. Minchia. No, 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 no. Bloody contro Bang and Smoke. Oh. Sì, io sto colpi skipper e mi sto tutte le hit, però, vabbè. Sì, mi diverto. Uno è qui, eh. Cerchate le armor. Blu, raga, blu. Blu. Blu è blu. Dai, dai, tiriamo dritto. Oh, dietro, dietro di noi, dietro di me, dietro di me. Viola. 44 vol. Oh, io ti tiro dei griffi. Uno viola e uno blu di questi. Sopra? Fai chiamato sopra? Eh sì, dai, minchia. Uno blu, eh. Sono... Sono... Sto... Stanno scappando tantissimo. Stanno scappando tantissimo. E' dietro di teamfightano. Stato lì uno, stato lì uno. Ma se tipo andiamo dritti da questi o andiamo in safe, che là... Stanno scappando tantissimo. Ho tornato back. Ho tornato back. Ave, te leggera. 2,50. Andiamo dritti da questi. Va bene. Che dovrebbero arrivare qua. Anche le hai panni? Eh, 100. Questi qua erano quelli a armatura blu e viola. Sono davanti a me qua. Qui. Oh, la casa è safe. Cioè... Vabbè, prendi, lo prendi. Le rompiamo? Le rompiamo, le rompiamo, le rompiamo. Sì, 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 sì. Goto. Eh, questi qua li holdiamo. Li prendo a angolo, li prendo a angolo. Sono scesi. Sono nel mid. Occhio per occhio, occhio. Nel tunnel qua? Sì. Sì, li ho visti. Ma è così pronti del nostro affetto. Eh, lo so. Gli sparassero. Che po... Vabbè. Vabbè. Uno si allarga. Uno si allarga. Ma che cazzo fanno? Però è che mi spara da dietro l'altro team. Eh, lo so, lo so. No, qualcuno. No, qualcuno sotto. No, qualcuno sotto. No, qualcuno sotto. Mi son buttato. Che palle qua camperato. Ma pandizio, se mi resti diretto, forse... Sì, 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 sì. È veloce, però. Vai, gli altri due sono avanti. Gli altri due sono avanti. Resto io, resto io, resto io, resto io. Resto io. Copri, nel mid. Che palle, 18 di PK. Perché cazzo c'ho quest'arma, Dio caro? Vado convinto di PK hit da 18, zio porco. Gli altri sono su, gli altri sono su. Dobbiamo salire, dobbiamo salire, dobbiamo... Salire, forza, troia! Occhio alla gianta. È traccato quello sopra. Per dove cazzo salgo io qua? Qua dove cazzo sopra. Quasi crack l'hash. È quasi crack l'altra. Qua dietro, qua dietro, è traccato. Di sotto a loba, 50 di vita a loba, tipo. Dietro. Presi. Ma qua dietro, forse, l'ho sentito? Sì, 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 ragazzi, da me. Quattolo. Di punto. Eh, venite, venite, venite. Vabbè. Eh, l'ho solo crackato io. Gli ho fatto 80. Ci sta, ci sta. Niente, p-skipper bocciato. Ma che sosse robbigotto. Sì, e vabbè, ora eravanti tre, dai. Niente, il p-skipper, n***a, ho fatto cagare. Io l'ho fatto stra bene a sto game. No, io ho bo il p-skipper. Ho proprio preso un terzo dei colpi, tipo. Meglio non raccoglierlo più. I punti li ho presi, però. Easy. Mi raccomanda. Il re degli assist. Più. 344. Che bello. Boia. Minchia, ragazzi, sono cose di due. Boia, quanto ti manca il di due? Beh, altre due partite e Back to Lobby supera il principale di Seba. Eh, sì. Fattuale. Boia. Ciao. Grazie.